Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi parleremo degli anime che usciranno in questa stagione primaverile del 2023. Lo so che la stagione è già iniziata, ma mi ero già organizzato con i video usciti ultimamente, insomma, e quindi questo video lo porto solo ora. Però tranquilli, oggi che vedrete questo video, la roba interessante deve ancora iniziare, la maggior parte della roba, insomma. Comunque, in questo video vi dirò quali sono le serie che escono in questa stagione, vi farò l'elenco completo, il giorno in cui escono i primi episodi, e poi vi dirò le serie che seguo io, che ho deciso di seguire per questa stagione, che sono un bel po'. Cioè, io ultimamente seguivo One Piece e poco altro, magari, che ne so, durante la stagione autunnale ho seguito Bleach, la saga, l'ultima saga, ho seguito Chainsaw Man, però poi poco altro. Invece in questa stagione primaverile ci sono un sacco di serie che mi interessano, quindi è stato difficile anche sceglierle e su alcune sono ancora indeciso, però vi dirò più o meno, insomma, quelle che seguo. Prima di cominciare, ragazzi, io vi ricordo di andare a seguirmi sul profilo Instagram e TikTok, che trovate sempre qua sotto in descrizione, quindi seguitemi su entrambi i profili. E poi non perdetevi video di Minecraft, ho ricominciato a portare Minecraft sul canale, da ieri, e mi raccomando, andate a vedere quel video se non l'avete ancora visto. In pratica, rigioco a Minecraft dopo tre anni che non giocavo e guardo tutte le novità, e a brevissimo, ragazzi, inizierà una nuova serie survival, quindi non perdetevela. Detto questo, ragazzi, direi che possiamo cominciare. Come vi ho già anticipato, adesso vi farò un po' l'elenco di tutte le serie che escono in questa stagione primaverile, almeno sapete tutte le serie, e ve le dirò in ordine, tipo, vi dirò quando è uscito o quando esce il primo episodio, quindi 1 aprile, 2 aprile, vi dico tutte le serie del 2 aprile, 3 aprile, vi dico tutte le serie del 3 aprile, come vedete mi sono fatto questa bella lista, ci ho messo un bel po', e niente, qua ci sono appunto tutte le serie che escono, adesso ve le dirò. Partiamo ovviamente con quelle uscite il primo aprile. Il primo aprile sono uscite queste serie qua, Chibi Godzilla no Gyaku Show, non so se vi interessa, cioè magari alcune non vi interessano proprio, comunque ve le dico tutte, non si sa mai, Mix 2, The Dangerous in My Heart, My Love Story with Yamada Kun at livello 999, poi Edens Zero 2, Hell's Paradise e Heavenly Delusion. Quindi, ecco, se seguivate Edens Zero io vi consiglio di non perdervi questa stagione primaverile, primaverile, perché inizia la seconda stagione di Edens Zero, una serie che per me è molto bella, e se non vi siete letti il manga, almeno guardatevi l'anime, che appunto io ve lo consiglio, e questa seconda stagione sarà tanta roba, come la prima del resto. Poi, andiamo con le serie del 2 aprile, My Clueless First Friend, My Home Hero, The Aristocrats Otherworldly Adventure, Servings God Who Go Too Far. Cioè, titoli veramente lunghissimi, infiniti, questo sarà sicuramente un Isekai, quindi non penso di guardarlo, a me gli Isekai interessano poco, però se vi piacciono, questo forse vi può piacere. Credo sia un Isekai, almeno dal titolo, cioè quelli che hanno i titoli lunghi sono sempre Isekai, quindi, insomma, si va sul sicuro. E poi, sempre il 2 aprile, esce Run for Money, The Great Mission. Passiamo al 3 aprile. Il 3 aprile sono uscite Alice Gear, Edge's Expansion, In Another World With My Smartphone 2, la seconda stagione, Kizuna no Alele, io serie manco mai sentite, Kuma 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 Beer Punch, quindi, nel caso non si fosse capito, c'è un orso in questa serie, sembra, Kuma 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 Beer Punch. Comunque, queste sono le serie uscite il 3 aprile, iniziate il 3 aprile. Poi, il 4 aprile, sono cominciate Skip and Loafer e Yotunia, Yotunia, ok, beh, non ho idea di che serie sia, no? Come vedete, fino ad ora è uscito poco e niente, c'è di cose interessanti, Edens 0-2, se non la seguite andatela a vedere o a leggere, insomma. Poi sono iniziate Heavenly Delusion e Hell's Paradise, io per adesso ho visto Heavenly Delusion, molto interessante, promette molto bene, sembra un po' simile a The Promised Neverland o l'Attacco dei Giganti, però promette bene, promette molto bene. Devo ancora vedere Hell's Paradise, anche se l'essi il primo volume tempo fa, comunque, insomma, lo guarderò, seguirò l'anime, lo guarderò poco a breve, il primo episodio di Hell's Paradise, e poi Edens, lo sto leggendo, non penso di guardarlo. Comunque, di queste cose ne parleremo meglio a fine video. Poi, oggi, il 5 aprile, insomma, oggi che vedete questo video, quando esce questo video, poi non so quando lo vedrete voi, comunque, 5 aprile, le serie che iniziano sono Kamikatsu Working for God in a Godless World, quindi anche questo sarà un Isekai, 100%, e poi Konosuba, An Explosion on this Wonderful World, sicché non so se è proprio la serie principale di Konosuba o un'altra serie, uno spin-off, non lo so, un sequel, non lo so. Comunque, sì, a me Konosuba non interessa più di tanto, cioè, l'essi il primo volume, ma non mi disse niente, cioè, non mi interessa tanto, ecco. Poi, magari, a voi interessa, cioè, a molti piace, a me personalmente no, quindi non mi sono informato neanche più di tanto. Poi, dal 6 aprile, quindi da domani, ora vedrete, inizieranno le cose interessanti, dal 6 aprile iniziano Dr. Stone New World, la nuova saga di Dr. Stone, la terza stagione. Se vi siete persi il film o l'episodio speciale, non mi ricordo, su Ryusui, che è uscito dopo la seconda stagione, andatela a vedere, perché quella è fondamentale per poter vedere poi la terza stagione. Quindi, quella andatela a vedere. Comunque, 6 aprile, Dr. Stone New World, sentite questo titolo, eh, cioè, io non so come fa la gente a inventarsi questi titoli infiniti. Cioè, questo è un Isekai, ma proprio 100%, veramente, questo, sono sicuro è un Isekai. Questo, ragazzi, se vi piacciono gli Isekai, questo, cioè, non lo so, cioè, non l'ho visto, ma sono sicuro che questo è un Isekai. Poi abbiamo The Ancient Magus Bride, seconda stagione, The Idol Master Cinderella Girls U149, non è la di cosa sia, The Legendary Hero is Dead e Yuri is My Job. Anche questo, insomma, diciamo, sembra si intenda abbastanza di cosa parlerà. Comunque, vedete, il 6 aprile iniziano diverse serie. Il 7 aprile, proprio una sfilza, abbiamo Poi iniziano Meshul, la prima stagione, questa ve la consiglio veramente perché il manga è divertente, lo dico sempre, l'incrocio fra Harry Potter e One Punch Man, e quindi è molto divertente, molto figo, quindi Meshul, se non lo leggete, guardatelo, è una buonissima occasione per conoscere questa serie. E poi c'è anche Tonikaku Kawaii, seconda stagione. Io, ragazzi, avevo visto la prima, mi è piaciuta un sacco, era tipo della stagione autunnale del 2020, sicché pensate a quando risale la prima stagione. Ora, dopo due anni e mezzo, eh, c'è la terza stagione, la seconda stagione, non posso perdermela. Io ve la straconsiglio, ovviamente andatevi a vedere la prima stagione, e guardatevi anche due ova, perché sono molto interessanti, e sono molto molto belli. Io mi sono visto anche quelli prima di iniziare questa seconda stagione. E niente, quindi, ragazzi, Tonikaku consigliato. Poi, l'8 aprile iniziano A Galaxy Next Door, My One Hit Kill Sister, e poi si passa subito al 9, l'8 c'erano poche serie. Il 9 aprile iniziano, Blue Orchestra, Summoned to Another World for a Second Time, quando c'è Another World nel nome, 100% Unisekai, 95% Unisekai, diciamo. Poi, World Day Star, e Demon Slayer 3, la terza stagione di Demon Slayer, in cui inizierà l'arco del villaggio dei forgiatori di Katana, dove vedremo due pilastri, sì, e comunque una bella saga, cioè io l'ho letta nel manga carina. Poi l'anime sarà fatto sicuramente molto meglio del manga, quindi se vi piaceremo Slayer, ovviamente non potete perderevela. Poi, il 10 aprile inizieranno Insomniac's After School e The Reason Why Realiana Ended Up at the Duke's Mansion. Anche qua a titoli infiniti. Per l'11 aprile abbiamo The Marginal Service. Poi, per il 12 aprile, Oshinoko, questa potrebbe interessarvi. Poi, per il 13 aprile abbiamo Ranking of Kings, Treasure Chest of Courage. Beh, non so se è uno spin-off o un sequel, non ho idea. Il 19 aprile abbiamo Sacrifical Princess and the King of Beasts, Beasts. Poi abbiamo tre serie, di cui non si sa quando usciranno i primi episodi. Queste tre serie sono Boss Animal, Dead Mount, Dead Play e Yakitori, Soldiers of Misfortune. Ora, Dead Mount, Dead Play, io so che dovrebbe uscire tipo di lunedì. Gli episodi dovrebbero uscire, mi sembra, di lunedì, non mi ricordo. Comunque, magari vi può interessare. Però ancora appunto non si sa quando uscirà il primo episodio, quindi questo ancora non si sa. Però, mi sembra, i vari episodi, insomma, usciranno di lunedì. E ci sono poi le serie che continuano, le serie in corso. Ovvero Villan Saga 2, la seconda stagione di Villan Saga continua, insomma, ancora in corso dalla scorsa stagione invernale. E esce il lunedì. Poi abbiamo Dragon Ball Heroes, che esce un po' quando vuole. Normalmente di mercoledì, diciamo che di solito fra le serie è sempre segnato di mercoledì, però esce un po' a caso. Conan, Detective Conan. Ragazzi, io sto andando avanti con Conan, è bellissimo. Io sono ancora agli episodi nemmeno 200, però voglio andare avanti. Fidatevi è bellissimo, mi hanno detto che ora, cioè, negli episodi che stanno uscendo adesso, c'è qualcosa di incredibile. E so che in realtà sono stati fermi per diversi mesi con l'anime sottotitolato in italiano. Però ragazzi, ora sembra che qualche altro episodio lo stiano tirando fuori, quindi... Diciamo, Conan è segnato il giovedì. Se esce meglio, se non esce la normalità, però intanto è segnato il giovedì. E se esce, fidatevi, guardatelo, cioè... Io vi consiglio di recuperarlo dall'inizio alla fine, perché Conan è bellissimo. So che è lunghissimo, però fidatevi, ne vale la pena, è una delle serie migliori di sempre. Poi One Piece, come sempre la domenica, anche quello, la saga di Wano, cioè, sta andando avanti, ora ci saranno parti veramente interessanti. L'ultimo episodio è stato una bomba, quindi mi raccomando, anche One Piece, cioè, bellissimi gli episodi. Anche se stassi seguendo il manga, gli episodi guardateveli comunque, perché un episodio a settimana alla fine ci può stare. E poi doveva uscire la Mu, doveva continuare, perché, appunto, doveva continuare dalla stagione invernale, però alla fine l'hanno già rimandato al 2024, quella parte che manca, cioè, l'hanno già rimandata, quindi la Mu, mettetevi animo in pace, non uscirà quest'anno. Quindi, ragazzi, queste qua sono le serie che escono in questa stagione primaverile del 2023. Ora vi dico le serie che mi interessano di più e quelle che mi voglio vedere e iniziare. Come vi ho detto all'inizio, sono diverse, cioè, non sono decine e decine, però, considerando i miei canoni, sono comunque abbastanza, cioè, ne guardavo pochissime, come vi ho detto all'inizio video. Ora ne voglio vedere di più, cioè, ci sono più serie che mi interessano. Questa stagione sono mia veramente ricca. Comunque, andiamo a vedere un po' quali sono le serie che mi interessano. Come vi ho detto, di quelle uscite il primo aprile, ci sono Heavenly Delusion e Hell's Paradise, che mi interessano entrambe. E Hell's Paradise lo iniziai, poi non sono più andato avanti col manga, l'ho interrotto, però ho detto, vabbè, esce l'anime, vediamolo. Può essere bellino, quindi seguirò l'anime adesso. Heavenly Delusion, so che ne parlano tutti molto bene, almeno del manga, e quindi adesso lo voglio iniziare, appunto, il primo episodio l'ho già visto. È stato molto, molto interessante, sì, sì, sì. Hell's Paradise lo vedrò, forse ve ne parlerò, non lo so. Fatemi sapere più che altro se vi piacerebbe magari un video in cui vi parlo dei primi episodi che ho visto di questa stagione. Cioè, poi farò un video anche, che ne so, a fine stagione, quando vi dirò tutte le serie migliori che ho visto, quelle che vi consiglio, eccetera. Però magari fatemi sapere se vi va anche un video o una live dove parliamo, appunto, dei primi episodi, dei primi episodi che ho visto usciti questa stagione. Ovviamente quando usciranno tutti i primi episodi, quindi si parla almeno delle serie che mi interessano, almeno il 15 aprile, aspetteremo, più o meno. Edens 02, come vi ho detto, sarà una stagione molto bella, però io sto già leggendo il manga. Cioè, se mi guardassi anche l'anime di tutte le serie che ho già letto, non finirei più. Quindi ho letto il manga e mi accontento. In realtà ero indeciso se guardarla questa, perché la prima serie l'ho vista, la prima stagione, insomma. Però ora anche andare avanti non lo so. Sicuramente è figo, un anime molto figo, però andare avanti ora non so se è il caso. Quindi per adesso no, però se mi rientra qualche episodio da vedere, insomma, durante queste settimane, potrei anche iniziarla, però per adesso non è nei miei piani, diciamo. Stessa cosa per Dr. Stone. Dr. Stone non la guarderò, anche se ho visto un po' della prima stagione e ho visto la seconda, però lo sto leggendo, sono praticamente in pari e quindi non mi va di guardarmi la terza stagione di nuovo. Cioè, va bene lo stesso, anche se non la guardo, tanto appunto l'ho già letta. Poi, per le serie del 7 aprile, Tonikaku Kawaii 2, quella assolutamente. Tonikawa è bellissimo, ragazzi, io ve lo consiglio, come vi ho già detto durante il video. Poi, a Galaxy Next Door, dell'8 aprile, forse mi interessa. Probabilmente questa la guarderò, però ancora non sono sicuro al 100%. Diciamo che probabilmente la guarderò, però non lo so. E stessa cosa anche per Blue Orchestra, che esce il 9 aprile. Perché sì, una serie così sulla musica, sembra... Cioè, genere musica, scolastico, sembra abbastanza... anche Slice of Life, mi sembra. Quindi sembra... cioè, promette bene, diciamo. Però ora leggerò la trama quando uscirà e deciderò se iniziarlo. Probabilmente sì. Come a Galaxy Next Door, diciamo. Vedrò, però. Demon Slayer 3 non lo guarderò. Cioè, so che l'anime è fatto molto bene, però io non è che adoro Demon Slayer alla follia. Cioè, è bellino, lo leggo. Mi manca l'ultima saga, ora appena finisce, ad aprile, leggo tutto. Comunque sì, Demon Slayer lo sto leggendo. Cioè, ho letto già questa saga, quindi non mi interessa anche vederla. So che è molto meglio, però non mi interessa. Poi, una serie che invece mi interessa veramente tanto, Insomniacs After School. Ora, da poco ho finito Living Room. Ho fatto anche una recensione, se ve l'assete persa andatela a vedere. Però lascio anche magari un descrizione qua su nella linea tutta a destra. Ho fatto, appunto, ho finito Living Room. E mi è piaciuto veramente tanto come sé. Cioè, mi è piaciuto molto come manga. Quindi, mi è venuta voglia di leggere qualche shoujo, qualche scolastico, slice of life, così. E, insomma, Insomniacs After School sembra che faccia per me. Quindi, poi la variant è bellissima. Io intanto ho preso la variant, però deciderò ora se continuare la serie col manga o se seguirmi l'anime. Intanto il primo episodio lo guardo, perché mi ispira molto e penso di vederla, insomma. E poi, il 12 aprile abbiamo Oshinoko, che anche questo sono sul Forse. Sono un po' indeciso se guardarlo oppure no, ma molto probabilmente lo guarderò. Perché so che a molti piace, insomma, molti sono interessati. Quindi un motivo ci sarà, vuol dire che forse così male non è. Vedremo, vedremo. Probabilmente lo guarderò. Mentre delle serie in corso continuerò a vedere One Piece e basta, insomma. Quindi, per adesso di serie sicure, ne ho cinque. Tre sono tipo in forse, deciderò. E poi altre importanti, tipo Dr. Stone, Meshul, Demon Slayer, Reddance Zero, non le guarderò perché sono serie che ho già letto. Ovviamente ve le straconsiglio, sono fra le serie migliori e ve le straconsiglio tutte. Però io non le guarderò perché appunto le ho già lette e sarebbe una perdita di tempo anche guardarle. Bene ragazzi, queste sono le serie di questa stagione primaverile del 2023 e vi ho detto anche quelle che guarderò io e quelle che vi consiglio. Però raga, ovviamente, cioè, questi qua sono i primi episodi, i giorni in cui escono i primi episodi. Poi non è detto che, cioè, alcune serie spesso fanno come vogliono e o cambiano giorno di uscita o vengono rimandate. Cioè, ci sono sempre problemi, ultimamente soprattutto, non ne parliamo. Quindi io vi ho detto quando escono i primi episodi, quando sono segnati i primi episodi, poi magari alcuni non sono ancora usciti, o usciranno un po' più tardi, oppure cambieranno giorno che tipo sono iniziate di lunedì per dire e poi continuano il mercoledì. Vi ho fatto un esempio, eh. Però ecco, io vi ho detto intanto quello che sappiamo per il momento. Poi si vive alla giornata, si sta tutto, si vede via via come va e non ci si può regolare adesso, diciamo. Comunque io spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Fatemi sapere cosa ne pensate. Scrivetemi quali sono le serie che seguirete voi di questa stagione e quelle che mi consigliate. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video. Vi saluto. Ricordatevi di passare dal mio profilo di TikTok e Instagram, che trovate sempre in descrizione. E niente, ragazzi, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao, raga.